ha acceso in molti la fiammella della speranza sia tra i pazienti ricoverati e loro familiari ma anche tra il personale medico che ora dispone di un'arma in più con cui combattere il coronavirus e il farmaco utilizzato per la cura dell'artrite reumatoide principio attivo dal nome impronunciabile tocilizumab ma ora sulla bocca di tutti in questi giorni sta dimostrando di essere efficace nel trattamento della polmonite interstiziale causata dal covid 19 che costringe i pazienti ad essere messi in terapia intensiva e per i più gravi invece ad essere intubati nelle rianimazioni dopo i primi casi trattati a napoli dal professor paolo ascerto direttore dell'unità di oncologia melanoma immunoterapia dell'istituto tumori pascali di napoli anche altri pazienti curati in italia stanno ricevendo questa terapia tra gli ospedali che stanno utilizzando il farmaco c'è anche quello di fano e le evidenze vanno tutte nella stessa direzione nella maggior parte di casi c'è un miglioramento rapido marche nord fa sapere che sono 11 al momento i pazienti che hanno ricevuto il trattamento i numeri sono quelli che ha dato l'azienda sono ancora pochi insomma e c'è ancora da sperimentare però una speranza discreta c'è è stata praticamente una scoperta una scoperta una intuizione dei cinesi poi ripresa dal professor ascerto di napoli lavoro pubblicato con 21 casi in cina dove si è visto che praticamente questi pazienti miglioravano riducendo la risposta infiammatoria dell'organismo al virus il direttore del dipartimento di emergenza urgenza di marche nord michele tempesta ci dice che nei pazienti già molto gravi e già in rianimazione si registra un lieve miglioramento mentre nei casi meno gravi spiega il responsabile del pronto soccorso del santa croce di fano giancarlo titolo il 70 80 per cento di questi mostra miglioramenti evidenti già nelle prime 24 ore questo è il target questo target lo dobbiamo acquisire nel senso che adesso insomma ci sono due linee di pensiero in cui alcuni vogliono farlo a delle persone insomma che sono già intubate che hanno delle 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 problematiche importanti altri invece lo vogliono fare in maniera precoce alla luce di queste evidenze cliniche l'azienda titolare del farmaco la roche ha dato la propria disponibilità ad aifa nazionale per avviare uno studio clinico sull'efficacia e sicurezza del toccilizumab anche in questi pazienti